È il momento del meteo, andiamo a vedere la situazione sulla nostra regione con Roberto Grimaldelli. Bentrovato, buongiorno. Ben ritrovati, subito con la grafica per i dettagli sulle previsioni. Al mattino sulla Lombardia cielo ovunque da molto nuvoloso coperto con qualche debole pioggia sui settori occidentali. Limite delle nevicate oltre i 1200 metri. Nel pomeriggio situazione simile con qualche piovigine intermittente anche sulla bassa pianura. Temperature massime oggi tra 4 e 9 gradi. In serata non varia sostanzialmente granché salvo qualche possibile schiarita sulle Alpi. Giornata di domani con la prima parte, le prime ore notturne ancora con debole instabilità sui settori meridionali e cielo nuvoloso. Dal mattino invece schiarite progressive a partire da est fino a avere poco nuvoloso ovunque dalla tarda mattinata. Domani temperature minime tra 2 e 6 gradi in pianura, massime tra 6 e 10 gradi. Buona giornata da Arapa Lombardia. Grazie, buon lavoro all'ARP. Ora parliamo di un...